L'accoglienza e protezione dei migranti I vostri antenati hanno saputo accogliersi a vicenda, quali protagonisti e defensori di una vera cultura dell'incontro che consente ai migranti e a tutti di essere riconosciuti nella loro dignità e nei loro diritti. L'accoglienza e protezione dei migranti L'accoglienza e protezione dei più poveri, dell'ambiente e delle sue risorse. Auspico di cuore che Dio benedica il vostro popolo e tutti gli sforzi che fate per favorire l'incontro tra culture, civiltà e tradizioni religiose diverse nella promozione di una società giusta che non dimentica i suoi figli, specialmente quelli più bisognosi. L'accoglienza e protezione dei migranti L'accoglienza e protezione dei migranti L'accoglienza e protezione dei migranti